bentornati alla mia cucina io sono una donna molto fortunata te lo dico perché perché sono circondata da persone che io stimo speriamo che mi stimano però di sicuro ci divertiamo insieme federico grilli come stai molto bene grazie ancora di questo invito mi fa molto piacere essere qui con te in questa cucina e soprattutto poter aiutare le nostre amiche con qualche trucchettino in più no 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 adesso ragazzi la prossima ricetta non ve lo posso dire perché non ve lo svelo ancora però voglio spiegarvi sempre chi è federico io e federico lavoriamo insieme a gm24 lui nella cucina e io con i tressiginici e ogni tanto mentre sto pedalando sudando e soffrendo sulle tressiginici il mio amico cucina in lontananza e sento dei profumi e sento degli odori e poi l'altra cosa che vado la sempre come un cagnolino scondizzolando dice federico mi fa prepari qualche cosa e tu mi mi fai mangiare ogni volta qualcosa sempre più buono sempre più diverso sempre sempre con un po di attenzione naturalmente no ma no guarda è federico ha uno cuore grande come una casa e diciamo anche un'altra cosa se volete seguire federico grilli ha il suo blog su un food blogger che è noi singoli in cucina punto it avete capito noi singoli in cucina punto it ma andiamo a scoprire la ricetta di questa puntata allora facciamo delle frittelle frittelle di zucchine frittelle di zucchine scusami frittelle inteso come panchic tipo panchic tipo americana ma salate neutrali questa volta evitiamo di mettere il sale ma possiamo mettere un po di sale usare le altre specie dove le appoggio durante l'arco della prima colazione pranzo cena dopo cena allora antipasto possono essere ottime se vi piacciono le colazioni un po salate molta gente lo fa e ama per esempio proprio il panchic è per eccellenza quindi può essere come colazione può essere anche come un pranzo un po veloce con accompagnato da una bella insalata oppure perché no anche la sera basterà semplicemente cambiare i contorni e lo stesso piatto può essere usato per tutta la giornata perfetto allora federico andiamo a scoprire gli ingredienti di questa ricetta ci servono due zucchine romane due uova 20 grammi di parmigiano 20 grammi di farina di riso lievito per dolci un pizzico ma sembra abbastanza lineare come ingredienti è facile molto facile devo dire se volete sostituire la farina di riso con la farina di avena per avere un aiuto in più va bene anche con la farina di avena in questo caso saranno molto leggere perché cerchiamo di evitare le farine troppo lavorate come la zero la doppio zero ci interessa soprattutto avere un pochino più di attenzione a tutto quello che andiamo naturalmente stiamo cercando una farina un po più grezze esatto ok perfetto allora gille rompiamo intanto un uovo all'interno del batter esattamente ok 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 l'uovo è sempre un legante per eccellenza esattamente ok adesso andiamo a mettere una zucchina che abbiamo grattugiato poi andiamo a mettere guarda facciamo così andiamo a mettere andiamo un po occhio perché il bello della cucina è anche quello mettiamo specialmente mai delle diete assolutamente mettiamo della farina di riso e a questo punto a questo punto perfetto per chi soffre di glutine o di intoleranza di glutine no adoro ragazzi stiamo facendo questa perché in un'altra puntata sono riuscito a fare ottobato con il frullatore però ognuno suo mestiere dai assolutamente ok perfetto allora questo è l'impasto che noi abbiamo ottenuto volendo possiamo andare a mettere anche due uova per magari farne di più ma insomma diciamo che per una persona se è un impasto più che sufficiente eccolo qua a questo punto abbiamo scaldato una padellina antiaderente sul fuoco ci manca una cosa che ovviamente ci siamo dimenticati ma la mettiamo subito e io giro e mentre noi stiamo preparando il nostro impasto ragazzi andiamo a scoprire insieme proprio la proprietà delle nostre star di questa ricetta zucchine regolarità del transito intestinale funzionalità del sistema digerente viene importata in europa intorno al 1500 dopo la scoperta dell'america l'italia è sempre stata una grande produttrice di zucchine e qualche anno fa è entrata anche nel guinness di premati per la zucchina più grande del mondo raccolta in provincia di ferrara la zucchina da guinness era lunga ben due metri allora nel 2013 il nuovo guinness dei primati è stato registrato a giacalone in provincia di palermo dove è restato raccolto una zucchina lungo due metri dieci centimetri le zucchine sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico 100 grammi di zucchine crude infatti apportano al nostro organismo soltanto 11 calorie non contengono né grassi saturi né colesterolo la loro buccia è una buona fonte di fibre utile al corretto funzionamento dell'intestino uova la loro principale qualità è infatti contenuti proteine nobili di alto valore biologico complete cioè degli aminoacidi essenziali che vengono impiegati dal nostro corpo per il mantenimento e la costruzione delle strutture cellulari e per quanto riguarda il colesterolo l'uova ne è di certo ricco ma le lecettine contenute nel tuorlo favoriscono l'attività dell'hdl cioè del colesterolo buono bisogna anche considerare che il colesterolo che si misura nel sangue non è direttamente connesso a quello che si trova negli elementi come le uova ma viene formato anche dal fegato a partire anche dalle zuccheri e cereali raffinati sempre nuova novità e impariamo delle cose insieme come affrontare la tavola e questo frittello a me mi interessa molto ok perché io essendo americana amo i pancakes esatto e qui devo dire abbiamo molto di pancakes allora abbiamo scaldato intanto la nostra padellina sopra il fuoco e mettiamo praticamente giù il nostro composto come vedete già inizia a fare le bolle perché il l'azione del lievito sta cominciando a far lievitare il nostro pancake quando vediamo che le bolle cominciano a terminare è il momento di andare a staccare e rigirare ma noi noi abbiamo una diciamo una specialità di questa di cucina e qual è qual è la magia la magia siamo pronti 1 2 3 ok attenzione mettiamolo qua dai mettiamolo qua ok allora come vedete sono veramente molto molto facili da preparare se vogliamo fare un una forma c'è un gusto alternativo noi possiamo preparare l'impasto poi lo dividiamo a metà in uno mettiamo le zucchine grattugiate nell'altro mettiamo la carota grattugiata così abbiamo un doppio colore con lo stesso impasto questi sono perfetti per i nostri bambini che amano le frittelle e quindi è una gioia in più da portare a tavola con grande ma non solo secondo me è anche molto facile portare con noi in ufficio magari a fare un picnic portare al mare con noi o dopo magari un allenamento come durante diciamo la si si chiama la finestra anabolica subito dopo un allenamento per circa 90 minuti è importante ri integrare diciamo l'energia persa ma andiamo a scoprire insieme il nostro amico sascia sorrentino che ci spiega qualche chicca sulla nutrizione ascoltiamo ragazzi questo è un manuale di benessere oltre ogni immaginazione vi spiego perché perché non è una dieta è una guida e poi c'è dimagrimento morfologico per spiegarlo meglio c'è lui dottor sascia sorrentino che sta qua accanto a me ciao sascia ok nostri amici non sanno che questo è un piccolo gioiello io devo dire gioiellino manualino abbiamo messo un po scriverlo però ne valsa la pena oggi mi puoi spiegare spiegare la caratteristica di una donna apera diciamo che tantissime donne hanno tra virgolette questo tipo di conformazione cosa vuol dire che tendono ad accumulare su girovita fianchi famoso giro gag esatto interno coscia ok e alcune donne anche sulla zona del braccio della zona del tricipite qui però è giusto fare tra virgolette una differenza perché ci sono delle donne che fanno una dieta ricchissima di proteine e sono quelle che smagriscono in viso smagriscono qui sul decolté mentre invece sotto restano tale quale addirittura accumulano ancora più ritenzione sono le donne dico io la dieta non la faccio più perché tanto so che lì sotto non dimagrirò mai e questo è perché se vai a vedere poi alla fine fanno una dieta ricchissima di proteine povera di carboidrati quindi il corpo avverte questa sensazione di allarme e blocca fondamentalmente trattiene trattiene e trattiene i grassi perché dice l'ultima spiaggia esatto esatto perché tutti noi pensiamo che quando il corpo va in riserva energetica la prima cosa che brucia è i grassi in realtà magari brucia il muscolo purtroppo si è anche brutto rimani qua voi torniamo a vedere le nostre ricette insieme perché questi sono concetti secondo me molto importante e lo dobbiamo sentire così andiamo a vedere insieme le nostre ricette come prosegue e ricordate mai dire dieta sascio sorrentino gil cooper per tornare in forma con un po di godimento esatto un po di godimento ci vediamo dopo federico mi piace veramente tanto questa ricetta queste frittelle che secondo me possono andare verso il salato tu la manderesti anche con i dolci non la vedo la vedo più salato no io lo vedo salato è una cosa che a me piace molto e naturalmente quello che dicevamo un po all'inizio della nostra puntata a seconda del contorno che andiamo a mettere è perfetto naturalmente anche da andare quindi a condire con un pomodorino fresco una bella insalatina che ci sgrassa un po la bocca ci dà quella sensazione di freschezza e piacevolezza anche all'occhio perché insomma è un piatto veramente facile da realizzare fra le altre cose lo potete anche fare ne potete fare di più e tenere nel congelatore li scongelate cinque minuti prima li mettete nel tostapane sono sempre pronto no vabbè sei un genio ecco perché no ecco perché dovete andare sul suo blog perché lui fa delle cose che sono veramente per i single che hanno poco tempo e devono fare devono fare sempre colpo giusto esatto quindi basta il congelatore il microonde sono due grandi amici dei single perché ti fanno fare tutto in pochi secondi e ti fanno fare anche bella figura vabbè ragazzi è sempre un piacere immenso farci ritrovare con gli amici con voi qui su mai dire dieta ricordate che è fattibile mangiare bene e mangiare con consapevolezza e anche trovare la linea divertendovi è vero assolutamente sì ci vediamo presto qui su mai dire dieta ciao 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 ciao